Benvenuti a questa nuova puntata sorpresa di a due passi. Oggi è la festa delle spire, oltre ad essere ferragosto. Questo si chiama l'angina, l'angina. Giovanni Cocciardi, pannese originale, il commerciante di animale è l'agricoltore di retta. Giornata abbastanza calda, ci siamo messi qui in buon al fresco per riposarci. Stiamo aspettando che arrivano i carri. Sì, dal boccaccio con l'olio, che non si mantiene sempre ben morbido. State vedendo la sfilata di carri con addobbi di spighe di grano, con il susseguirsi di cavalieri, cavalli, muli e canti popolari. Quanto tempo devono stare al su? E' una secca bella, la fanno proprio secca. Secca, secca, secca. E loro però permettono di dare un boccaccio. Certo. E questi, quanti boccacci sono più o meno? Eh, secondo. Due, tre? Sì. Eh, secondo. Quanto poi quando è molto secca si fanno... Si fanno più piccoli. Eh sì. 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 Sono fagioli pannesi. Sì. Sì. Fagioli pannesi originali. Originali. grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.